Ciao a tutti pagliacce e pagliacce, qua è Megozzo e benvenuti tutti quanti in questo nuovo video Attenzione, un video che molti di voi stavano aspettando La grande, grandissima intervista delle due protagoniste donne della vita reale da calciatore Jasmine e Samantha Esatto ragazzi, questo video sarebbe uscito, sarebbe dovuto uscire domani Ma siccome ieri sera mi sono ritirato praticamente alle 4 del mattino, quindi qualche ora fa Non ho avuto, cioè non sono andato direttamente a dormire, ho già preparato il video e tutto il resto Però sto facendo la parte audio, quindi ho fatto un mega after della Madonna, non so se si vede dagli occhi Comunque, frega, niente Però ragazzi sono uscito a portarvi il video oggi Quindi voi dovete astutissimamente spolliciarlo Quindi vedete voi come dovete fare, andate giù, spolliciate il video, mi raccomando, obbligatorio Che sarà un video fenomenale L'intervista tra Jasmine e Samantha, raga Le due donne che si odiano per eccellenza La mamma di Ronaldo Junior contro la fidanzata di Ronaldo Junior Più grande di 20 anni, vabbè, parentesi chiusa, aperta e chiusa, quindi lasciamo stare Mi raccomando, iscrivetevi anche al canale Cosa importantissima per non perdere le prossime interviste e i prossimi video Quindi mi raccomando ragazzi che ci conto e io vi ringrazio già da adesso Intanto ragazzi, prima di passare al video voglio salutare due di voi su Instagram Saluto Calimero, il nero, attenzione nome è eccezionale E Gabri Ferroni che mi chiedono di essere salutati E che uno dice addirittura di essere pazzo come Ronaldo Junior E hai capito tutto della vita Anzi no, Ronaldo Junior ragazzi, non imitatelo a casa Va bene suggeriamo, ma a casa non imitatelo Quindi ciao a entrambi ragazzi e grazie per il vostro commentone Intanto vi ricordo che se anche voi potete seguirmi su Instagram Potete e dovete farlo, lo trovate qui Realentoni ragazzi, cercatemi E in descrizione per essere salutati nei prossimi video E anche vedere i prossimi spoiler in anteprima Quindi sì, avete capito bene, per cui vi aspetto E adesso direi che l'intervista ragazzi sta per esplodere il mondo Attenzione, ora inizia, quindi Dov'è il copione delle domande che non lo trovo più Dov'è il copione delle domande io raga? Non trovo più il copione da qualche parte Va pur sta, vabbè, ora lo cerchiamo un attimo Ok ragazzi ci siamo, scusate per il ritardo Ma non trovo il copione Allora, intanto salutiamo le nostre ragazze Salutiamo Jasmine e Samantha che Non capisco che stanno facendo Vabbè ragazzi, stanno facendo i fatti loro E ha detto che a breve avremmo iniziato l'intervista E quindi ragazze Allora, iniziamo a bamba Con le prime domande Nome Jasmine Samantha Soprannome Patatina amorosa 2002 Fragolina è citata 33 Età Trenta Trentadue Professione Sono a barbone ormai, mannaggia a Messi Mi mantiene il fenomeno CR7 Di qualcosa all'altra Uè, chita Le rubate il marito Brutta str*****a Vengo là e ti devasto La vostra prima volta? Con Ronaldo Junior Cosa hai fatto con mio figlio? Vi depilate? Mi piace essere pelosa Beh sì, se no Ronaldo mi manda fuori di casa Quante volte fai la cacca? Una volta a settimana Sono stitica come un palo da cucina Credi in Dio? In zio? Sì, sempre Porco Il lavoro più umile che tu abbia mai fatto Raccolto la cacca di Ronaldo Junior Ho lavato cessino fast food con Leonardo DiCaprio Cosa fai durante il giorno? Gioco a briscola con i barboni Vendo cartelli pubblicitari in Messico Il vostro grido di battaglia Alibaba Eschere seeeeeee Il vostro cibo preferito? Sottaciti con ketchup, latte e mandorle della nonna Lasagne e carciofi secchi sotto olio di fegato di giraffa Hai mai frenzonato qualcuno? Sì, Ronaldo Junior Il sacerdote di fronte a casa mia a 12 anni Animale preferito? Senza dubbio cavallette della Giamaica Il chupacabras Chi hai mai amato per davvero? Il bidello delle scuole media Ronaldo e il kebabaro di Nick Radogna Chi odi più di ogni altra cosa al mondo? Samantha Il piastrellista argentino che mi ha fatto esplodere da casa Che pensi di Ronaldo Junior? Era un cazzaro che mi ha fatto fumare tre pacchi di rosmarino Beh, è mio figlio, spero diventi come suo padre Scherzo, vado al Barcellona, sì! La tua auto preferita? Lamborghini Mercedes Cantante preferito? Fedez Quei tossicodipendenti in sedia a rotale di Benji e Fed Cartone animato preferito da bambina Le superchicche di Aldo, Giovanni e Giacomo Lady Oscar Formulate una frase in rima Pippo spara le pippe A le spicate, sei fatta ai sordi, eh! Hai mai ucciso qualcuno? No, ma Samantha sta a rischiare Il sacerdote che ha battezzato Ronaldo Junior Lavoro dei tuoi sogni? Lavare i tazzini al Burger King Beh, ovvio, bidella in un centro estetico nel New Mexico Benissimo! Direi che abbiamo finito questa grande intervista Tra queste due grandi donne Che hanno segnato appunto la storia di GTA 5 Della vita reale della calciatore La nostra Samantha, moglie attualmente di Ronaldo E Jasmine, ex moglie di Ronaldo E fidanzata di Ronaldo Junior Che ragazzi, sinceramente non ho capito manco io il perché Bene, l'intervista è finita ragazze Potete salutarvi ovviamente Non scannatevi Fate le cose civili Siate civili il più possibile Qua è Omega ragazzi Grazie per aver seguito questa intervista Oddio No Lo sapevo, no Ora ti faccio vedere io a lesbica Quanto puzza Bruno? Ragazzi scusate per l'inconveniente Mi sono fatto staccare tutto dalla regia Ma ci sono stati dei problemi Quindi vi volevo dire che per motivi di pestaggio Oddio qui si stanno spaccando di mazzate Le trasmissioni riprenderanno normalmente domani Al 13.30 con il solito video giornaliero E no Oddio Vi prego Picchiati anche a me No Oddio ragazzi Aiutatemi Oddio Ita Grazie.